Buongiorno a tutti, questo mio breve video per annunciarvi le novità delle prossime settimane. In collaborazione con dei professionisti del settore monetica, finanza, crediti, con cui collaboriamo proficuamente da anni, abbiamo registrato dei brevi video su argomenti di interesse comune, che possono aiutarvi in modo pratico e veloce ad affrontare alcune tematiche talvolta difficili da approfondire individualmente. Parleremo di investimenti socialmente responsabili, peer, ecobonus e altre tematiche che man mano vi sveleremo. I nostri consulenti rimangono comunque a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento, chiarimento o dubbio che in ogni caso potete rinontrare anche tramite questo canale. Grazie, buona visione e a presto! Grazie!